Il suono della chitarra è una delle parti più imprescindibili del rock e del metal. Stasera la Rock of Ages vi accompagnerà in un viaggio dove andremo a scoprire i grandi artisti e i grandi incazioni. Artisti, autori, chitarristi che sono stati in grado di scrivere pagine indelebili della storia. Vedremo stasera quali sono i più importanti. L'appuntamento è per domenica 11 febbraio alle ore 21 su NTV web con il nostro Rock of Ages.